Ciao ragazzi, io sono Ros e sono la vostra coach, benvenute in un nuovo allenamento per la categoria Burn. Questo allenamento è un allenamento brucia grassi, andremo ad eseguire esercizi a corpo libero e con un peso che può essere un catbell, un manubrio o una bottiglia d'acqua. Il peso deve essere leggero perché vi deve permettere di eseguire gli esercizi in velocità, senza rinunciare alla forma, quindi senza rinunciare alla corretta esecuzione degli esercizi. Il CFX di questo workout è 3, ora riscaldatevi con una delle routine che trovate nella playlist riscaldamento e cominciamo! L'allenamento di oggi è composto da 4 esercizi che formano il circuito e questo circuito dovrà essere ripetuto per 3 volte. Ci servirà l'interval timer che imposteremo con 50 secondi di lavoro, 10 secondi di pausa per 12 round. Il diario di allenamento che potete scaricare nel sito corefxfitness.com e durante gli esercizi segneremo le nostre ripetizioni in modo tale che a fine workout calcoleremo il punteggio in base al CFX anche che vi dirò all'inizio del video. Questo servirà così per tenere traccia dei vostri progressi e per migliorare sempre di più il punteggio quando vi andrete a fare questo workout. E poi vi servirà un peso, un catbell, un manubrio, una bottiglia d'acqua. Io utilizzo questo catbell da 4 kg. Cercate di utilizzare un peso che va bene per il vostro livello di allenamento. Il primo esercizio che faremo insieme al bar workout. Come si esegue? Dalla posizione eretta scendiamo in squat e poi con un salto ci mettiamo in posizione di plank. A questo punto giriamo il busto e portiamo una gamba fuori come se calciassimo qualcosa. Ritorno in plank, mi giro dall'altra parte e di nuovo calcio. Squat e jump. E questa è una ripetizione. Chi non riuscisse a fare questo esercizio standard, ci sono le varianti. Quindi può fare l'half burpees, che è questo, oppure senza salto. Quindi mi metto qui, stendo le gambe e risalgo e contraggo bene i glutei. Secondo esercizio, crab to touches. Ci mettiamo in questa posizione e vado a toccare con una mano il piede opposto e poi cambio. E questa è una ripetizione. Chi non riuscisse a fare questo può fare semplicemente il to touches, quindi gambe tese. Vado a toccare, quasi a toccare le punte dei piedi, se riesco a toccarle meglio. Terzo esercizio, prendiamo il peso e facciamo un affondo in avanti, jump squat e affondo avanti con l'altra gamba. Questa è una ripetizione. Si può fare anche, sempre con il peso, lunge in avanti, affondo in avanti, squat e affondo in avanti di nuovo e poi squat ancora. Ultimo esercizio è lo swing. Praticamente ci mettiamo in questa posizione, gambe divaricate, prendo il kettle o il manubrio e lo lancio in avanti, contraendo i glutei. Quindi lo porto qui. Cercate di non piegare le gambe quando andate indietro. Cioè le ginocchia devono essere leggermente flesse, ma non dovete andare in posizione di squat. Quindi questi sono i quattro esercizi. Ora impostiamo il timer e cominciamo l'allenamento insieme. Intanto l'intervallo mi si è spento, ok. Perfetto, inizio. Barbie's kick out. Da cazzo un tasto che non dovevo. Via! Controllo il movimento. Ok. Crab two touches. Addome attivo. Respiro, forza. Ok, peso. Front lunge. Mi raccomando. Affondo in avanti, il ginocchio non deve superare la punta del piede. Squat jump. Front lunge, di nuovo. Squat jump. Forza. Alla prossima. Ok. Swing. Contraggo bene i glutei. La schiena rimane dritta. Forza ragazzi. Ok. Riparto tutto da capo. Barbie's kick out. Respiro, forza. Mi raccomando, addome forte. Qui lavoriamo tutti i muscoli del corpo. Mi raccomando, addome forte. Qui lavoriamo tutti i muscoli del corpo. Ok. Ok. Rob two touches. Rob two touches. Questo è un ottimo esercizio per gli addominali. controllo bene il movimento. Ricordatevi dei varianti. Se non riuscite o se siete stanche passate le varianti. non fermatevi. Non fermatevi con l'allenamento. Continuate. Ok. Ok. Non parlare concentrati. Ok. Front lunge. Jump squat. And front lunge. front lunge. front lunge. front lunge. front lunge. front lunge. front тип revenge. front visceride del,' dot dumge. front lunge. front lunge. front lunge. e ora swing, swing mi metto in posizione contraggo i glutei, forza, bravissime, così respiro ok, dai dai torno di nuovo con il primo esercizio, burpees kick out dai forza ok grab to touches mi metto in posizione focus dai ragazze ok front lunge jump squat front lunge top lunge belly ass L'ultimo esercizio. Swing. Attenzione a non farvi partire il kettle o il manubrio. Tenetelo stretto. Dai che è l'ultimo esercizio. Dai con tre due glutei. Forza. Resisto. E' ok. Finito il workout. Ora marcio sul posto. Continuo a marciare sul posto per far scendere un po' i miei battiti. Quindi magari faccio inspiro ed espiro, inspiro ed espiro. E ricordate di fare sempre dello stretching con una delle routine che trovate tra le playlist. Ragazzi fatemi sapere come è andato l'allenamento lasciandomi dei commenti qui sotto al video. Fatemi sapere se siete riusciti a fare tutti gli esercizi oppure avete dovuto fare delle varianti. Vi ricordo che se volete rimanere in forma e avere uno stile di vita sano nel sito corefxfitness.com ci sono tantissimi consigli di benessere, fitness, ricette per stare in forma e i miei programmi di allenamento. Se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Ciao! Ciao!